Ti ricordi dell'ultimo giornale, l'ultima partita? Che è successo? Oh, dalla curva, tipo, dalla curva, dai cazzo. Sì. Da, dai cossi c'era come a strancio i suoi. Tragli qui, tipo, entra qui, fai male qui, sangue, sangue, un altro tipo queste cose. Senti, ti incitavano dalla curva a fare i falli? Sì. Perché io incitavo loro a tirlo. Ah, benissimo. Nel senso che io stavo, quando stavo in panchina lì. Cioè, di, ma fammi entrare che l'ammazzo, fatemi entrare! Eh, me lo ricordo, mi chiamavano a me per farti entrare per menare qualcuno. Eh? Mi ricordo che mi chiamavi per farti entrare, perché così potevi falciare qualcuno. Io lo dicevo! Un fallo solo, dai! Poi quando fai tirato, badomma, che brutta! Non è stata forse la cosa peggiore che ho fatto, eh? No. Non lo so. Puoi farci di peggio? E beh, no, non ho fatto veramente tanto. No, è bece. Quella sua Guilini Junior che gli è entrato qua a scivolare da assassino pure. Eh, beh, c'è da vantarsi, in effetti. No. 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 No.